Potrebbe sembrare un pillolone, in realtà è una novità tecnologica molto interessante, Samsung Icon X. Questa piccola scatoletta che sto impugnando in realtà è la casa di un oggetto molto, molto, molto interessante. Basta aprire infatti la custodia per scoprire i nuovi Samsung Icon X, ovvero due nuovi auricolari Bluetooth con delle caratteristiche veramente uniche sul mercato. Diciamo subito, questi non sono gli unici auricolari di questo genere, cioè con una dimensione molto ridotta e totalmente senza fili. In circolazione c'è anche una proposta tutta italiana di Nailox che è molto interessante. Però oggi voglio parlarvi di Icon X e delle sue caratteristiche peculiari, perché ci sono molti motivi per cui si possono ritenere un'innovazione molto interessante. Intanto la scatoletta. Allora questa in realtà è una batteria supplementare. Sulla parte posteriore trovate insomma il connettore micro USB per collegare il caricabatterie. Questa scatoletta, questo cofanetto estende la durata della batteria, quindi quando avete esaurito la prima carica potete semplicemente riporre gli auricolari nella loro custodia e fare una ricarica supplementare. Questo estende la durata della batteria che in realtà forse è uno dei veri punti deboli degli Icon X, perché di solito si possono utilizzare solo per un'ora e mezza consecutiva di ascolto musicale collegando il proprio telefonino. Se invece scegliete di ascoltare la musica direttamente dagli auricolari la durata sarà molto più avanzata perché si arriva quasi a due ore e mezzo. Però diciamo che è un po' difficile pensare a questi oggetti come degli strumenti professionali perché potrebbe essere che nel corso di una giornata vi serva un'autonomia molto più estesa di un'ora e mezza. Questi però sono degli oggetti molto interessanti invece per chi fa sport. Potete scegliere di utilizzare entrambi gli auricolari oppure un auricolare solo. Alla volta scegliete in fase di installazione quale dei due auricolari è il principale, perché ad esempio potete scegliere di usarne due per ascoltare la musica e uno solo per rispondere al telefono. Solitamente inserendo questi auricolari nelle orecchie sarete totalmente isolati dai rumori esterni, ma c'è una funzione in fase di installazione in cui potete scegliere di attivare il microfono interno e quindi di percepire anche i rumori intorno a voi. Situazione molto più sicura se ad esempio le utilizzate camminando per strada. Altro dettaglio, ci sono 4 giga di memorie interni, quindi vuol dire che dentro l'auricolare potrete memorizzare fino a mille canzoni e poi basterà toccare la superficie dell'auricolare stesso per avviare la riproduzione, andare avanti e indietro e alzare o abbassare il volume. Questi auricolari sono totalmente compatibili con Android e con l'applicazione potrete governare molte delle funzioni a disposizione, ma possono essere collegati anche ad un iPhone o ad un Windows Phone con cui li utilizzerete come dei semplici auricolari Bluetooth. Costano 199 euro, ma sono in regalo per chi compra Galaxy S7 Edge in questo periodo promossi da Mr. Gadget. Grazie a tutti.